... Sindaco, un encomio speciale perché loro sono una coppia di Rocchetta Sant'Antonio. Quelli del subappennino hanno una marcia in più. Il Foggia rappresenta un po' la provincia, tutta la provincia, l'abbraccia tutta l'amera. Allora 50 anni insieme, io non so se siete l'unica coppia di Rocchetta ma insomma sicuramente è strano vedervi a Foggia festeggiare 50 anni insieme. Com'è nato tutto? Fai parlare a lui, si ricorda di più. Quando siamo visti? Sono andato a Rocchetta io. Ma voi non siete di Rocchetta? Sì, sono di Rocchetta. È nata Rocchetta. Sì, sono appartengono ai scapoli, scapola. Ah, scapola, scapola. Sì, si appartengono ai scapoli. Io non stavate a Rocchetta? No, 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 sono andato via due anni, due anni e mezzo da Rocchetta a Foggia. E poi siete da Rocchetta e l'avete incontrato? E poi ho incontrato mia moglie, l'attuale, mia moglie che nel 1967, 68 siamo sposati e poi sono 50. Un anno di fidanzamento. Ma lui è venuto per un amico, ha mandato via l'amico e è tornato lui. Sembra così successo. Ma un anno di fidanzamento, diciamo, non di più. No, 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 giusto un anno. Però voi stavate a Foggia e lei vi beva a Rocchetta. No, io sono andato a Rocchetta. Eh, sì, però stavate a Foggia. Sì, stavo a Foggia, sì. E lei vi beva a Rocchetta. A Rocchetta, sì. Poi la siete sposate e la siete portate a Foggia. A Foggia, sì. Ma questi 50 anni insieme come sono stati? Bellissimi. Diciamo tutti tranquilli. Ottimo, ottimo, tutti ci siamo voluti sempre bene, ci siamo stimati, ci siamo... Chi ha più pazienza? Eh, io. Purtroppo bisogna compatirsi uno con l'altro. E che noi lasciamo perdere, insomma. È, 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 perché la donna ha sempre ragione, la donna ha sempre ragione, per quanto l'uomo deve sostenere ciò che dice la donna. Vabbè, a Rocchetta ci tornate ogni tanto? Sì, sì, sempre, sempre. Ci andrò mercoledì. A trovare la mamma. Ovviamente ci sono ancora i parenti. Adesso fanno 91, hanno fra 15 giorni. Quindi voi avete mamma a Rocchetta? Sì. 92 anni. E voi invece avete ancora parenti? No, i zii, i parenti. Avete gli zii? Sarebbe quello che c'è il... Il casificio. Il casificio. Il gisoldo, praticamente. No, il gisoldo. Ah, sì, melillo. Melillo, sì. Melillo sono i vostri parenti. La madre, sempre il nonno, il fratello è la mia mamma. Beh, allora rifesteggerete a Rocchetta questi 5 anni. Sì, certo. Tanti auguri, eh? Grazie. Grazie.